Sarei venuto di sopra, però ci sto... No, voglio farlo da lui. Ah, sceglie Gennaro, Marco! Ha baciato Mercedes, ma sceglie Gennaro. No, non voglio sorprendere sempre. Scegli tra Gennaro, Mercedes e Fabrizia. Pamela. Si è messa dietro a Mercedes. Marco Maccarini. Sono io. Due ne possono tornare in gioco. Ne possono tornare in gioco due. Uno è scelto da voi. Allora, voglio dire sicuramente a Mercedes, che è divertentissima. Anche Gennaro. Gennaro. Nicolas, sei tu a fare la scelta ora. Strategia. Non avevo capito questo. Non ci credo, non ci credo. Siamo? No, ragazzi, non ci credo. Mercedes è l'ultimo, ma non perché è l'importante. Luca. Vediamo. Questo è decisivo. Sì, vabbè, insomma. Non ci credo. È decisivo abbastanza, perché comunque erano già in due ad aver scelto Gennaro, così sono in tre. Così è salvo. Queste sono le due formazioni, quindi ad avere meno Naufraghi è Fabrizia. Allora, quindi Mercedes, tu sei ufficialmente rientrata in gioco perché sei stata scelta di un'altra, così che sia stata scelta. La esperanza è in quella, quindi ancora un'altra, così, è un'altra colta. Allora, qui è un'altra, così, è un'altra, così, è un'altra, così, è un'altra, così, è un'altra colta. Grazie a tutti